Quanto ci è voluto organizzare questa cosa? Ci sono voluti noi dopo le vacanze, da agosto, da agosto no, da dopo le vacanze abbiamo già cominciato a lavorare per questa grande manifestazione perché ha richiesto molti contatti con tante aziende, di vino, di cibo e poi sai c'è un'organizzazione, quando si fanno queste cose a questi grandi livelli bisogna guardare tanti, perché siano ben riuscite le cose, bisogna guardare tanti molti piccoli particolari. La nostra manifestazione sta riuscendo molto bene proprio perché ci stiamo lavorando da tre mesi e questo è un congresso che si fa in tutte le città d'Italia ogni anno, Sardegna, Sicilia, il prossimo anno mi pare che è in Toscana. Non è che si vuole arrivare perché noi a mio modo di vedere di quello che sono le conseguenze del nostro lavorare abbiamo già, ripeto, abbiamo raggiunto già il massimo di cosa vorremmo fare. Insomma, riempiamo i corsi, i nostri corsi di Roma sono pieni, dobbiamo addirittura chiuderli e rimandarli al mese di marzo, al successivo corso. Voglio dire, arrivare a qualcosa di più, non saprei che cosa abbiamo quest'anno il 28, la 2000 vini, dove noi diamo i cinque grappoli a dei vini appunto e ci sono delle grandissime novità, qualcosa di eccezionale come a livello cuochi, vini, insomma. E siamo la guida più grande d'Europa venduta, la guida più venduta d'Europa. Abbiamo una tiratura di 55.000 coppie, che non è poco.